Non disturbare! Mi scusi, non siamo qui per le pulizie. Stiamo cercando una persona. Salve, che succede? Scusi il disturbo, stiamo cercando una ragazza. È mia figlia, si chiama Amelia, ha 14 anni, capelli biondo sabbia. Mi dispiace, non so chi sia. Ok. D'accordo, grazie, scusi il disturbo. Andiamo. Buona fortuna. No, aspetti, lei... Ehi, Amelia! Stai dietro! Amelia! Stai dietro! Amelia! 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 Fermo! Non muovete! Voi chi siete? Che ci fate qui? Dimmi dov'è. Senti, giuro che ti sparo. Non avvicinarti a sparo. Dimmi dov'è mia figlia! Ma non è nascuta! È tutto bene? Sì. Vai, vai. Jake, va dentro! È scappato. No, no. È stata qui. Era lei. Lo so.